Ben trovati al nostro spazio dedicato all'informazione regionale. In apertura la cronaca, un notevole sequestro di refurtiva è stato compiuto dai carabinieri della compagnia di Poggi Bonsi in provincia di Siena dopo la scoperta in un'abitazione della cittadina di una sorta di deposito di vari oggetti che militari ritengono essere frutto di una serie di furti in casa. Due le persone denunciate, tutto nasce da un'auto condotta da due stranieri, uno dei quali è risultato avere segnalazioni specifiche per furto. Nell'auto sono stati trovati due borsoni pieni di costosi oggetti per il giardinaggio professionale e il bricolage, oltre ad arnesi atti allo scasso, risultati essere la refurtiva di un ride di vari furti compiuti nella zona del Mugello in provincia di Firenze. È così scattata la perquisizione a casa di uno dei due stranieri, risultata poi essere, spiegano i carabinieri, una sorta di magazzino pieno di oggetti di ogni genere, giocattoli, pentolame, costose bottiglie di vino, indumenti di valore, trapani, avvitatori, decespugliatori, attrezzatura per il bricolage, bigiotteria ed orologi. Le indagini della Polfer sono 1419 le persone controllate insieme a due arresti e sei denunce nelle stazioni della Toscana, nell'ambito dell'operazione Stazioni Sicure, organizzata il 15 febbraio dalla Polizia Ferroviaria a livello nazionale. Controllati anche 95 bagagli e due depositi bagagli, grazie all'ausilio del metal detector e delle unità cinofile. Alla stazione Santa Maria Novella di Firenze un 33enne che non voleva pagare il biglietto ed ha inveito contro il capotreno è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale. A Livorno, durante un controllo a bordo di un intercity, gli agenti Polfer hanno arrestato un sessantenne italiano, risultato aver a carico un provvedimento di arresto per un cumulo di pene emesso dalla Procura di Napoli, per le quali dovrà scontare quattro anni per i reati di riciclaggio e spaccio di lieve entità di sostanze stupefacenti. A Pontremoli, Massa Carrara, la Polfer ha denunciato un 37enne italiano trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 18 centimetri. Vera Vigevani Yarac, attivista e scrittrice, il nonno morto ad Auschwitz e la figlia uccisa in Argentina negli anni della dittatura militare, testimone di due tra le pagine più buie del secolo scorso, ha incontrato i 60 studenti del Parlamento regionale. Certamente per me, per loro anche, credo, è importante che ci incontriamo e scambiamo un po' di opinioni, vediamo se assieme cerchiamo non solo di ripassare il passato, che tra l'altro è facile trovare tanta informazione, basta mettere un dito sia su internet, ma vedere un po' che sta succedendo e soprattutto affrontare tanti problemi, tanti drammi, tante cose terribili che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo. Allora, per loro e per me è una maniera di starci vicini, di metterci insieme, rinforzarci, non guiderci, perché quella è la cosa peggiore e vedremo se qualcosa riusciamo a fare di fronte a questa debilità che la mia generazione e anche la precedente stanno lasciando, purtroppo. Ognuno deve prendersi la sua responsabilità. Io me la prendo e tante altre persone se la prendono questa responsabilità e questi ragazzi soprattutto sono lì pronti a prendersi questa responsabilità, vediamo se miglioriamo un pochino il mondo con più giustizia e chi lo sa? Dicono che tutto sono utopie, sogni, è vero, sono anche utopie probabilmente, ma le utopie qualche volta si possono realizzare. Una cittadina di Fucecchio, Firenze, ha effettuato una donazione nei confronti di un'associazione di volontariato per scusarsi nei confronti del sindaco Alessio Spinelli che l'aveva querellata per offese sui social network. Lo rende noto il comune spiegando che il primo cittadino ha ritirato la querela. La donna aveva diffamato il primo cittadino su Facebook e si era vista notificare la denuncia sporta dal sindaco. La cittadina aveva quindi chiesto e ottenuto un incontro con Spinelli che l'aveva invitata a eseguire una donazione al posto dei costi che avrebbe dovuto sostenere per procedere con l'iter legale. Una volta eseguito il versamento il sindaco ha pertanto ritirato la querela. Per me la questione è chiusa, ha dichiarato Spinelli. I 65 lavoratori di Gegea a Prato passeranno alle dipendenze della Compagnia Italiana Alimentari unipersonale la procedura CIA come denominata al tavolo in regione. Nel frattempo si lavorerà anche per il futuro industriale del sito. Con l'accordo che abbiamo fatto e soprattutto i lavoratori che con l'accordo saranno tutelati da un ammortizzatore sociale vengono messi in sicurezza e si creano le condizioni per dare a questo sito una nuova vita industriale con delle risorse che mette in campo Gegee, cioè l'azienda che chiude, che si è fatta carico di quel principio di responsabilità sociale di impresa che noi abbiamo evocato fin dall'inizio e grazie anche alla disponibilità della procedura fallimentare che ha messo in campo un lavoro straordinario, entrambi recependo molte delle richieste che la regione aveva avanzato al tavolo. Un rapporto di amicizia profonda e di relazioni consolidate, quelle tra Toscana e Francia, che il presidente della regione Eugenio Gianni ha ribadito accogliendo in Palazzo Strozzi Sacrati l'ambasciatore francese Christian Massé in visita con il nuovo console generale a Firenze, Guillaume Rousson. Toscana e Francia, unite da radici storiche comuni e da un legame mai interrotto, adesso saranno ancora più vicine nell'ottica della forte e feconda collaborazione esistente e della complementarietà economica. Durante l'incontro è emersa infatti la proposta di organizzare ogni anno un forum economico Toscana-Francia che possa dare ampio spazio alle questioni economiche e commerciali esistenti tra le due realtà, nuovi stimoli e nuovi orizzonti nell'ottica della sinergia. E con questa notizia chiudiamo il nostro spazio dedicato all'informazione regionale e buon proseguimento con gli altri programmi della nostra rete.